Eccoci con le nostre pillole di vita di speranza. Adesso siamo con Marianna Sala, presidente Corecom Lombardia, Comitato regionale per le comunicazioni. Buongiorno Marianna. Buongiorno Carmelo. Ci incuriosisce subito a capire di cosa vi occupate il Corecom. Allora, intanto dico subito, il Corecom è un'autority regionale, cioè un organismo indipendente di garanzia che svolge funzioni di governo, controllo e consulenza in materia di comunicazione. Abbiamo un duplice ruolo. Siamo sia organo della regione Lombardia, per cui svolgiamo prevalentemente attività di consulenza, sia siamo organo funzionale decentrato di Agicom, che è l'autorità nazionale in materia di comunicazione. Allora, in questo ambito di che cosa ci occupiamo? Svolgiamo svariate attività. Andiamo dalla vigilanza rispetto della parcondicio in periodo elettorale, andiamo al monitoraggio e vigilanza delle emittenti TV locali, abbiamo il compito di vigilanza dei sondaggi sui media locali, ci occupiamo del rispetto del diritto di rettifica, cioè il diritto di replicare alla diffusione di notizie, immagini o dichiarazioni false, diffuse da un emittente radio televisiva. Però l'attività che credo interessa di più la cittadinanza lombarda è quella di risoluzione delle controversie in materia telefonica. In che cosa consiste? Allora, se un cittadino o un'azienda lombarda ha un qualunque problema con un operatore telefonico, e quindi parliamo di telefonia fissa, mobile o internet, deve rivolgersi a noi prima di fare causa davanti al giudice. E noi che cosa facciamo? Cerchiamo innanzitutto di mettere d'accordo, di ascoltare l'utente e l'operatore telefonico, e di mettere d'accordo le diverse posizioni. Tu pensa che nel solo 2019, grazie al nostro intervento, abbiamo restituito circa 3 milioni di euro ai cittadini lombardi. Quindi è un'opera assolutamente importante per quanto riguarda la cittadinanza. Ottimo, direi molto interessante. Ma adesso in questo periodo del coronavirus cosa fate? Allora, in periodo di coronavirus siamo tutti in smart working e diciamo anziché lavorare di meno, lavoriamo molto di più. Tutto il nostro ufficio dedicato alle controversie è assolutamente indaffarato. Perché? Perché l'emergenza da coronavirus non è solo emergenza sanitaria, è anche emergenza sociale, nel senso che tutta la comunicazione, anche quella interpersonale tra amici, passa necessariamente attraverso la tecnologia, passa dal cellulare, passa da internet. E allora, in questo periodo, più che mai, è importante che la linea telefonica e internet funzionino in modo assolutamente efficiente. Per cui tutti i nostri uffici sono indaffarati per garantire la massima efficienza. Tu pensa che riceviamo quotidianamente decine di lettere da parte della cittadinanza che ci ringrazia. Una in particolare che vorrei ricordare è quella di un signore anziano costretto a stare chiuso in casa, ovviamente a essere isolato al massimo perché è persona vulnerabile rispetto al virus, non aveva la possibilità di contattare i propri figli e grazie al nostro intervento nel giro di 24 ore siamo riusciti a ricollegarlo con il mondo. E questa è una soddisfazione incredibile perché ti rendi conto di quanto può essere utile il lavoro che svolgi. Quindi il coronavirus ci fa lavorare di più e questo è molto importante per la cittadinanza. Grazie per questo. Ci fa vedere anche che ci sono tanti fronti sui quali si combatte questa battaglia e c'è anche questo. Questo che è quello delle telecomunicazioni, tu prima hai detto monitoraggio e vigilanza nelle telecomunicazioni, emittenti tv, eccetera. E noi siamo inondati in questo momento in comunicazione, purtroppo anche di fake news, messaggi d'odio, eccetera, che stanno un po' inquinando quello che è il nostro sapere, il nostro comunicare fra di noi. In questo voi fate qualcosa? Assolutamente. Come dici tu, siamo bombardati di messaggi contraddittori, falsi, che mettono confusione in testa alle persone. Si può dire che accanto alla pandemia ci sia una infodemia. Che cosa facciamo noi? Noi teniamo controllato quando ci rendiamo conto o quando ci viene segnalata una fake news, una bufala, la andiamo subito a segnalare ad Agicom, che è l'autorità, come dicevo prima, l'autorità nazionale, che ha istituito un tavolo tecnico fake news apposta per questo periodo da coronavirus, perché dobbiamo ricordare che se circolano dichiarazioni false in ambito sanitario in un momento così particolare, si crea il panico tra le persone. E questo è quanto di più sbagliato, perché tutti i giorni ognuno di noi cerca di costruirsi un precario equilibrio ed è giusto che venga preservato. L'equilibrio e l'ottimismo anche in questo periodo difficile. Grazie. In tema di impegno, io so che Mariana Sala e il Corecom sono molto impegnati contro il cyberbullismo e per l'educazione e legalità. C'è un messaggio che vuoi dare su questo? Un messaggio anche di speranze, di attenzione che anche in questo periodo? Sì, allora, noi da sempre facciamo corsi nelle scuole contro cyberbullismo e per un uso responsabile di internet. Una cosa simpatica che verifichiamo ora è questa, che mentre prima dicevamo ai ragazzi attenti, non state troppo su internet, ora al contrario diciamo usatelo, usatelo perché vi serve per fare i corsi a scuola, vi serve per comunicare con gli amici. Quindi si è capovolta la situazione e si è capovolta anche perché i ragazzi che abbiamo sempre visto come piccole persone immature da crescere, adesso di colpo diventano dei giovani adulti che insegnano ai genitori come usare internet, come utilizzarlo al meglio. Quindi il messaggio di speranza qual è? Le situazioni nuove, le situazioni di crisi portano necessariamente soluzioni nuove e quindi non è detto che questo periodo strano di coronavirus di tempo sospeso non lasci anche dei messaggi positivi e ci insegna a noi adulti a vedere nei ragazzi delle persone mature capaci loro stessi di insegnare a noi qualche cosa. Grazie, grazie moltissimo anche di quest'ultimo messaggio perché ci hai fatto anche vedere come un mondo che cambia, cambia velocemente e bisogna anche cambiare nell'approccio e ciò che prima si faceva adesso non si può fare, viceversa invece di fare in maniera diversa e come hai detto a te è con la responsabilità che si accenda appunto la possibilità di fare del cambiamento una opportunità. Grazie Mariana Sala, grazie al Corecon e poi vedrete sotto anche le scritte con le indicazioni come raggiungere il Corecon. Grazie. Grazie Carmelo, grazie. Grazie a tutti.